Allora, vorrei iniziare questa lezione con un semplice motto che sicuramente avete già letto e avete già sentito sulle notizie in questi giorni. E' fondamentale non soltanto come cittadini, come siamo tutti noi, ma anche come persone che hanno un livello di istituzione alto e che probabilmente andranno a decidere per tante altre persone rendersi conto che ci sono grossi problemi di eguaglianza, ci sono sicuramente problemi di eguaglianza di genere, ma ci sono anche problemi decisamente più gravi e a volte con risvolti più volenti di eguaglianza razziale o di mancanza di eguaglianza razziale. Per cui, diciamo che ritengo mio compito dare un supporto alle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni, non soltanto negli Stati Uniti, dove il problema è probabilmente più grave, ma anche in tutta Europa. Per chi si chiedesse, sì, ma in realtà questo è un corso di programmazione a oggetti, cosa centrano gli aspetti sociali, politici? Ricordiamoci che ogni riga di codice che scrivete ha un'implicazione etica o morale. Se voi andate a scrivere del software che verrà utilizzato da altre persone, andrete a influenzare la vita di queste altre persone. In modi molto diversi. E quindi dovete cercare, per fare bene il vostro lavoro, di rendervene conto. Perché se non vi rendete conto che il codice che scrivete ha delle implicazioni sulla vita delle altre persone, oltre a far amare il vostro lavoro di sviluppatori, di ingegneri del software o di quello che sarete sul posto di lavoro, in realtà siete dei pessimi cittadini. Quindi è un aspetto che è importante tenere presente, perché non è esclusivamente aspetto politico o sociale, ma è un qualcosa che influenza l'etica del lavoro. A questo punto, qua un richiamo a quello che è gli aspetti etici della professione, di chi sviluppa il software, torniamo a parlare di aspetti più tecnologici. Tenendo sempre presente, tutte le volte che facciamo qualcosa, che gli aspetti etici sono importanti e tornano sempre ogni volta che andiamo a scrivere del codice. Torniamo in particolare a parlare delle interfacce grafiche di cui abbiamo parlato la volta scorsa. C'è una domanda tecnica, ovvero se Swing lavora a livello di pixel o è possibile dare percentuali di finestra per non occuparsi della risoluzione? Allora, normalmente le dimensioni che noi andiamo a dare sono molto spesso dimensioni in termini di caratteri, quindi quando andiamo a creare delle etichette, delle text label, oppure text field, oppure text area, di solito le dimensioni che noi diamo sono dimensioni in termini di caratteri, quindi non c'entrano i pixel e quindi c'è tutto un meccanismo di conversione che ci rende trasparente quella risoluzione effettiva. Per quanto riguarda invece la disposizione degli elementi, quello che noi facciamo solitamente è utilizzare un layout manager e il layout manager quello che fa lo fa andando a dividere lo schermo in una griglia ben definita se usiamo un grid layout oppure una griglia con delle porzioni diverse se utilizziamo un grid bag layout, per cui anche in questo caso normalmente non ci occupiamo di pixel e quindi quando andiamo a utilizzare dei componenti questo non è un problema. Se pensate a grid bag layout, io ve l'ho menzionato molto velocemente nell'ultima lezione, il grid bag layout permette di andare a specificare un peso delle diverse righe o diverse colonne in termini percentuali e quindi andiamo a dire che il 20% dello schermo è dedicato alle etichette e l'80% al testo. Quindi i layout manager sono pensati proprio in quest'ottica, cercare di astrare il più possibile, definire dei criteri generali di disposizione degli elementi e di ridimensionamento quando andiamo a modificare la dimensione della finestra senza entrare al livello di pixel. Quello che invece vediamo oggi, ovvero la parte di disegno diretta all'interno di una finestra, si basa sui pixel. Si basa sui pixel perché effettivamente quello che dobbiamo fare è andare a dare delle coordinate. Ovviamente noi possiamo andare a fare un'operazione di riscalamento, però il punto di partenza sono posizioni e quindi le coordinate devono avere un'unità di misura che ragionevolmente è il pixel. Poi ovviamente possiamo conoscere le dimensioni totali della finestra e quindi utilizzare delle proporzioni, però le API a livello di disegno diretto si occupano di pixel. La versione 2D, quindi tutta la grafica 2D, invece permette di avere delle conversioni di coordinate e quindi è leggermente più sofisticata, però è una parte che noi non tratteremo perché va un po' oltre i limiti di questo corso. Siamo ormai alla fine, quindi non c'è molto tempo per andare a dedicare a queste cose. Allora, torniamo a quello che sono il nostro progetto e proviamo a creare in un nuovo package una classe che andiamo a chiamare disegno mettiamo un main così sta tutto all'interno della stessa classe che è un po' più semplice da comprendere. Allora, diciamo che questa classe estende JFrame JFrame ovviamente deve essere importato da Java X Swing possiamo andare a definire un public disegno che è sostanzialmente il costruttore in cui possiamo andare a mettere tutte le operazioni di setup per cui ad esempio possiamo fare un set title esempio disegno diretto possiamo fare un set size 500 per 500 possiamo fare un set visible true e possiamo fare un set default close operation dispose on close quindi l'unica cosa che devo fare all'interno del mio main è fare un new disegno quindi questa è sostanzialmente il meccanismo molto semplice di base che permette di andare a allora scusate che faccio così almeno è più facile poi avere sia il codice che la finestra quindi se lo creo creo una finestra l'abbiamo visto la volta scorsa senza nulla quello che posso fare è andare a fare un override di public void paint graphics g attenzione qui quando fate l'import perché ci sono due diversi graphics uno è quello che si trova in java a wt che è quello che interessa a noi e un altro si trova in com sun prism il primo java wt è quello che è pensato per essere integrato all'interno di swing vedete che è un oggetto che è stato ereditato dal framework a wt che quindi continua a esistere e deve essere inframmezzato all'interno delle classi swing l'altro quello che si trova in com sun prism è invece una variante che fa parte del framework java fx ovviamente se voi meschiate i due non avete più nessuna compatibilità quindi attenzione quando importate a scegliere quello corretto a questo punto paint che cosa fa è un metodo che viene automaticamente chiamato ogni volta che è necessario andare a ridisegnare il contenuto della finestra e in pratica contiene tutte le istruzioni necessarie per disegnare il contenuto della finestra se ci sono dei componenti all'interno della nostra finestra paint ragionevolmente chiama il metodo paint degli altri elementi quello che possiamo fare all'interno di paint è utilizzare l'oggetto g di tipo graphics per andare a fare una serie di operazioni graphics ci permette di avere informazioni sul contesto grafico e di eseguire delle operazioni di disegno ad esempio abbiamo g dimensioni uguale g punto get bounce scusate non rect ma rectangle anche qui attenzione rectangle è questo di java auto più t che sostanzialmente mi dà le dimensioni quindi system out print ln dimensione più dimensioni dimensioni per cui giusto per provare se noi andiamo a lanciare la nostra finestra finestra che vi riporto di qua eccoci qua vedete che ci sono state due invocazioni del metodo infatti ho avuto due stampe di questa dimensione la prima quando ha disegnato per la prima volta la finestra sullo schermo diciamo principale del mio pc e la seconda quando ho spostato questa finestra di qua vedete che per quanto riguarda le dimensioni il rettangolo ci dice quanto è grande ovviamente la coordinata in alto a sinistra è 0 0 in alcuni casi potrebbe non essere così quindi potrebbe esserci una parte ridotta dello schermo che noi vogliamo andare a disegnare e poi abbiamo una dimensione 500 per 500 che è sostanzialmente quello che abbiamo indicato qua attenzione che 500 per 500 è la dimensione della finestra che include anche la barra del titolo quindi se io vado a disegnare qualcosa con coordinate vicine allo 0 sto disegnando qualcosa vicino a quest'angolo in alto a sinistra della finestra ok a questo punto torniamo qua anzi andiamo a chiudere la finestra che in questo momento non ci serve più e vado a fare un'operazione di disegno per disegnare posso utilizzare una serie di metodi che sono forniti all'interno della classe graphics quindi posso fare g. scusate non set ma draw e posso disegnare come vedete tantissime cose per cui posso fare un draw line e andare a definire le coordinate di inizio e di fine della linea quindi immaginiamo di mettere 0 0 e poi 200 200 posso utilizzare g.draw rect che mi disegna un rettangolo con una posizione nella posizione è l'angolo in alto a sinistra del rettangolo e poi ho larghezza e altezza quindi se andiamo a mettere ad esempio 200 200 larghezza 200 altezza 100 normalmente se non dico nulla tutte queste operazioni usano il colore di default che normalmente è il nero io posso andare a modificare il colore andando a utilizzare un g.set color e specificare il colore che voglio utilizzare il colore lo posso andare a creare a mano quindi posso fare new color e andare a specificare le tre componenti rosso verde e blu quindi se voglio ad esempio 96 66 e 12 color è anch'esso una classe che si trova in java.ut ed è da importare per cui se andrò a fare un g. oltre alle varianti draw line e draw rect che disegnano delle linee io ho la possibilità di andare a fare delle figure piene ad esempio posso fare un fill oval con una certa posizione diciamo 300 orizzontale 100 in verticale le coordinate partono sempre dall'angolo in alto a sinistra della finestra e crescono verso il basso per le y e verso destra per le x e poi ho una larghezza che potrebbe essere 200 e 100 allora domanda perché Paint è stato eseguito due volte è stato eseguito due volte perché la prima volta la finestra è stata disegnata su uno dei miei schermi la seconda volta ho spostato la finestra sull'altro schermo e il Paint è stato rieseguito è stato rieseguito perché sostanzialmente i due schermi sono indipendenti hanno una una densità di pixel per l'appunto come si diceva prima diversa e quindi il sistema operativo non può semplicemente copiare la finestra ma deve ridisegnarla completamente sul sul nuovo schermo e quindi quando l'ho spostata è stato ridisegnato cosa succede quando viene richiamato il metodo Paint sostanzialmente viene chiamato quando il sistema operativo ha bisogno di ridisegnare la finestra quando lo sposto uno schermo all'altro quando ridimensiono la finestra perché ovviamente c'è un'area che prima era se l'è a largo che prima non esisteva e quindi ragionevolmente devo andare a metterci qualcosa dentro oppure quando la riduco di solito lì dipende dall'algoritmo che viene utilizzato però potrebbe semplicemente utilizzare il disegno che c'era prima semplicemente andando a ritagliarlo senza richiamare il metodo Paint quindi se volete riattivo la stampa così vediamo quando viene chiamato il metodo Paint quindi a questo punto se vado ad eseguire ecco viene chiamato il metodo Paint una volta sposto la finestra sull'altro schermo e vedete viene chiamata un'altra volta allargo la finestra e ogni volta che faccio un ridimensionamento vedete che in realtà sono stati percepiti più ridimensionamenti ogni volta che ho avuto un ridimensionamento è stato chiamato un'altra volta il metodo Paint perché? perché vedete che sono state percepite diverse dimensioni prima 540 618 645 eccetera se faccio se faccio un'operazione di riduzione vedete anche in questo caso ridisegna perché in generale l'assunzione che ridimensionando magari devo modificare i contenuti se io riduco icona ovviamente non fa nulla perché quando è icona non deve disegnare nulla quando lo riapro vedete me lo richiama se espando ovviamente a tutto schermo di nuovo me lo richiama perché è un ridimensionamento un caso particolare di ridimensionamento ok? allora il colore che ho scelto in realtà è un po' scuro non si nota bene quindi è un marroncino provo a mettere 196 i valori qua sono tutti abbiamo detto RGB con valori da 0 a 255 dove 255 è l'intensità più luminosa e 0 ovviamente l'intensità nulla che quindi mettendo 0 0 0 ho il nero mettendo 255 255 255 ho il bianco domanda ho chiamato set size le dimensioni sono 482 ma 453 e probabilmente hai fatto qualche ridimensionamento non allora tornando ai colori il set color lo posso fare così quindi creando un nuovo colore specificando i tre componenti oppure posso fare un G punto set color e posso fare color punto e ho una serie di colori predefiniti per cui adesso vado a mettere un pink vedete che ci sono sia i nomi minuscoli che i nomi maiuscoli ma sostanzialmente hanno lo stesso valore e qui posso fare invece di un nuovo andiamo a fare un draw scusate più un draw facciamo un fill round rect e andiamo a mettere 10 200 e andiamo a mettere quando faccio un round rect oltre a specificare la posizione x e y larghezza e altezza devo andare a specificare quello che è l'arco degli angoli del mio rettangolo per cui vado a specificare sostanzialmente l'asse orizzontale e l'asse verticale dell'ellisse che verrà utilizzata per andare a disegnare il raccordo tra le linee orizzontali e quelle verticali qui larghezza diciamo 10 pixel e altezza mettiamo 5 a questo punto se rilancio tutto ok ecco qua il disegno ho schiarito un po' questo colore e ho messo questo rettangolo non si nota molto la curva qua però diciamo che un pochettino si nota domanda set color imposta il colore per l'elemento immediatamente successivo no in realtà set color imposta il colore da quel momento lì in avanti quindi una volta che ho impostato un certo colore tutto quello che disegno verrà fatto con quel colore per cui se io avessi fatto qui all'inizio un set color diciamo color punto ciano chiudo e riapro scusate ho dimenticato ho chiamato set color ma non ho specificato l'oggetto su cui chiamarlo ovviamente un jframe non ha il metodo set color vedete che eccoci qua questo azzurrino che diciamo che non si vede tantissimo allora domanda perché la linea non parte dall'estremo sinistro non parte dall'estremo sinistro perché la coordinata 0 0 è qua su in cima più o meno dove vedete la punta del cursore del mouse perché la finestra è 500x500 e include ovviamente la barra la barra viene disegnata sopra automaticamente sopra qualunque contenuto io vado a disegnare all'interno della mia finestra ok per questo motivo solitamente non è una grande idea andare a disegnare direttamente all'interno di una finestra perché per usare per andare a disegnare qualcosa che parte da quest'angolo qua interno quindi quella che si chiama l'area visibile della finestra devo andare a sapere quanto è alta la barra del titolo però la barra del titolo cambia cambia in funzione di qual è il sistema operativo su cui siamo o anche solo della versione del sistema operativo su cui siamo per cui normalmente questo approccio che ho utilizzato per semplicità non è quello ideale se io voglio andare a fare un disegno domanda chi è che invoca Paint allora Paint viene sostanzialmente invocato non direttamente ma indirettamente dal sistema operativo quindi quando il sistema operativo deve disegnare la finestra chiede a Java di ridisegnarla e Java sostanzialmente chiama il metodo Paint e passa un oggetto Graphics che rappresenta l'area della finestra da disegnare quindi è un qualcosa che non è sotto il nostro controllo quindi il metodo Paint non è un qualcosa che chiamiamo noi direttamente ok a volte può essere necessario però chiedere un ridisegno di quello che è la nostra finestra immaginate avere un gioco in cui c'è una pallina che rimbalza da destra a sinistra e viceversa quindi ogni dot secondi o millisecondi voi dovete aggiornare la posizione della pallina oppure volete andare a cambiare il colore di qualcosa e quindi volete ogni dot secondi o millisecondi andare a modificare quello che è il colore di un elemento in questo caso è necessario andare a fare un'operazione di ridisegno ovviamente noi non possiamo chiamare il metodo Paint perché il metodo Paint è pensato per essere chiamato dall'esterno inoltre non abbiamo un oggetto graphics da gestire l'oggetto graphics viene costruito da qualcosa di nascosto in Java passato praticamente dal sistema operativo e quindi noi non possiamo andarlo a creare di volta in volta quello che possiamo fare è utilizzare un metodo che si chiama Repaint che sostanzialmente chiede al sistema operativo di richiamare il metodo Paint e quindi sostanzialmente segnala al sistema operativo che sarebbe bene ridisegnare la finestra perché il contenuto è variato allora immaginiamo di avere un intero i uguale a zero abbiamo qui un g.set color new color e andiamo a dire i,i,i e facciamo un g punto fill rect lo andiamo a mettere nell'angolino in basso quindi 400 per 400 100 scusate e 100 e poi andiamo a dire i più uguale a 10 if i maggiore di 255 i uguale a zero sostanzialmente ogni volta che chiamiamo metodo Paint andiamo a incrementare i in modo che alla chiamata successiva qui abbiamo un colore leggermente diverso e se superiamo 255 ripartiamo da zero e ovviamente cosa succede che fatto così ogni volta che noi andiamo a ridimensionare la finestra cambia leggermente il colore ma non è quello che vogliamo fare a noi interessa sostanzialmente andare a creare thread t uguale a new thread e vado a mettere un oggetto runnable che semplicemente fa repaint thread scusate c'è una tonda di troppo ok t.start anzi se volete l'incremento lo possiamo mettere qua ok tutto questo noi non lo vogliamo fare una volta sola lo vogliamo fare per sempre e ovviamente non lo vogliamo fare il più veloce possibile perché questo va veloce quanto va veloce il processore quello che vogliamo fare è andare a mettere un thread punto slip diciamo di 20 millisecondi ovviamente thread slip può essere interrotto se è interrotto diciamo per pulizia interrompiamo il nostro thread a questo punto chiudo la finestra che abbiamo già fatto prima ne creo una nuova che vi vado a mostrare qua vedete che sta lampeggiando ovviamente qui sto continuando a richiamare il metodo paint è un lampeggio molto veloce quindi io potrei andare qua a rallentare andare a mettere 100 millisecondi guardate metto un commento qua su questa stampa perché altrimenti ci distrae e quindi vado a creare la mia finestra che vado a mostrare qua vedete che il rettangolo in fondo viene aggiornato ogni 100 millisecondi e il colore passa dal nero iniziale quindi 0 0 0 fino a 255 e a questo punto una volta arrivato a 255 cioè il bianco si riparte da capo ok per cui in questo caso come vedete devo andare a utilizzare il metodo repaint che chiede al sistema operativo di ridisegnare o meglio segnalo al sistema operativo che la finestra dovrebbe essere ridisegnata perché è cambiato il contenuto quindi in generale pensando a model view controller nel momento in cui il controller fa qualche operazione che modifica il contenuto della nostra finestra potrebbe chiamare repaint sull'oggetto della finestra per sostanzialmente scatenare il ridisegno della nostra finestra a questo punto terminiamo questo e vi propongo un esercizio leggermente più complicato lo faccio andando a creare una nuova classe esempio diagramma quindi andiamo a creare un diagramma a partire da una serie di dati allora abbiamo visto che utilizzare direttamente il metodo paint cioè ridefinire il metodo paint all'interno di una finestra non è il massimo perché la posizione 00 non è proprio l'angolino in alto a sinistra di quello che noi vediamo ma è l'angolino in alto a sinistra nascosto dalla barra in generale non abbiamo informazioni su quella che è la barra per carità lo possiamo andare a dedurre sul nostro sistema operativo ma nel momento in cui vogliamo andare a eseguire la stessa cosa su un altro sistema operativo la cosa è possibile che non funzioni più per cui quello che di solito conviene fare è esattamente come prima andare a creare un jframe creare un costruttore lo copio da quello di prima perché in realtà queste tre operazioni sono operazioni che io posso comunque fare esempio diagramma quello che voglio fare è aggiungere un componente all'interno della mia finestra e all'interno di quel componente andare a ridefinire il metodo paint in modo che l'oggetto graphics di quel componente non si riferisca all'intera finestra barra inclusa ma si riferisca esclusivamente al rettangolo che corrisponde a quel componente per cui quello che posso fare è andare a definire una classe che chiamiamo diagramma che estende uno dei componenti che stanno all'interno della nostra finestra quindi potrebbe essere jcomponent o jpanel noi passiamo a questo costruttore un array di string scusate etichette che sono le etichette delle immaginiamo di voler andare a costruire un diagramma barre e un int quadre valori quindi abbiamo delle etichette abbiamo dei valori e andiamo a disegnare un diagramma barre che corrisponde a questa struttura immaginiamo di avere un costruttore diagramma che riceve le etichette e i valori scusate qui ho dimenticato di mettere un array per cui qua che cosa faccio prima di rendere visibile il mio contenitore andrò a creare un diagramma di uguale new diagramma a cui passo possiamo definirle qua string quadro etichette uguale primo secondo secondo terzo int quadre valori uguale 4 3 7 quindi crea un diagramma passando etichette e valori quindi vado a inizializzare gli oggetti qua e poi andrò a fare un add del mio oggetto di non ho utilizzato nessun layout manager se non utilizzo nessun layout manager sostanzialmente quell'elemento lì viene messo a riempire tutta la nostra area se volete possiamo utilizzare un layout manager ad esempio un border layout in cui possiamo poi andare ad aggiungere dei pulsanti qui ad esempio set layout new border layout e qui vado a mettere l'aggiunta del diagramma D nella zona centrale del nostro border layout a questo punto ecco che all'interno della mia classe diagramma vado a fare l'override del metodo paint graphics ovviamente deve essere importato a questo punto come faccio allora iniziamo con una variante molto semplice in cui andiamo a dare le dimensioni fisse quindi lo spessore delle barre e poi possiamo pensare di ragionare eventualmente come esercizio aggiuntivo da fare a casa di fare un diagramma che si adatta alle dimensioni del nostro componente qui restringendolo le barre diventano più sottili o diventano più corte se noi accorciamo la finestra eccetera però iniziamo con una versione fissa con una lunghezza delle barre e uno spessore delle barre standard allora quello che possiamo andare a fare è for int i uguale a 0 i minore di valori punt lent più i vado a mettere le mie barre allora posso fare un g.set color color punto andiamo a prendere un orange e quindi fare un g punto fill rect quindi è un rettangolo la barra sostanzialmente è un rettangolo che avrà una certa posizione diciamo che la posizione x potrebbe essere 10 quindi 10 pixel dal margine sinistro la posizione y potrebbe essere 100 per t più 10 pixel la larghezza facciamo delle barre orizzontali la larghezza deve essere proporzionale al valore che noi vogliamo andare a rappresentare quindi andremo a prendere valori di e lo moltiplichiamo per diciamo 100 e l'altezza è un'altezza fissa quindi potrebbe essere visto che andiamo a mettere una barra ogni 100 pixel potremmo fare una larghezza che è 80 quindi lasciamo sostanzialmente 20 pixel tra una barra e l'altra a questo punto se non ho commesso errori avviando avviando il nostro disegno non vedo non vedo niente non vedo niente scusatemi perché ho dimenticato nel main di creare l'oggetto questo direi che è una buona spiegazione del perché non vedo niente quindi new esempio diagramma ok ricordiamoci che comunque un entry point deve esserci sempre nel caso di java è sempre comunque il main in cui avvio tutta la mia visualizzazione quindi lancio eccoci qua e ottengo questo vedete che una barra è lunga 7% quindi quindi 700 che era un po' più grande del nostro diagramma quindi questo è il nostro diagramma a barre ovviamente se io riduco troppo succede che non vedo più un pezzo tra l'altro qui non abbiamo neanche le etichette ok quindi andiamo ad aggiungere le etichette invece di mettere a sinistra scriviamole sopra le barre cosa ho messo in valori in valori sostanzialmente ho messo questi numeri qua 4 3 7 e primo secondo terzo vado a fare un g punto draw scusate draw string e vado a mettere la stringa che quindi sarà etichette vado a mettere la posizione x che è sempre 10 in realtà possiamo fare 15 quindi mettiamo un terreno a margine e la posizione y che è sostanzialmente la base su cui si appoggiano i caratteri quindi sostanzialmente quella che si chiama la baseline per cui i caratteri normalmente stanno sopra la baseline che si trova alla coordinata y che noi andiamo a specificare con eventualmente i caratteri in discesa tipo le g le q le p che vanno sotto questa linea mentre invece il corpo del carattere sta appoggiato sopra questa linea abbiamo detto che la nostra barra inizia a 100 per i più 10 se mettiamo 100 per i più 10 sostanzialmente andiamo a scriverlo appoggiato sopra la barra in realtà io vorrei rimetterlo un po' sotto quindi proprio all'interno della barra se io mettessi 100 per i più 90 andrei a scriverlo appoggiato sulla parte inferiore del mio rettangolo lo voglio un po' più su e quindi diciamo che lo sposto di altri 20 pixel andiamo più 70 attenzione fatto così l'etichetta viene scritta con lo stesso colore che abbiamo indicato prima e quindi è praticamente invisibile quindi devo andare a fare un set orange per l'etichetta e devo andare a fare un black ad esempio scusate orange per il rettangolo e black per l'etichetta andiamo a cambiare le dimensioni in modo che si veda tutto e a questo punto provo a rieseguire e vedere se funziona tutto correttamente ecco qua il nostro diagramma barre rivisto ovviamente io posso andare a modificare il font sia come tipo di font che come dimensioni per andarlo ad adattare c'è un metodo che si chiama set font che permette per l'appunto di andare a definire il tipo di fonte ed eventualmente andare a definire le caratteristiche di quel carattere a questo punto come passo ulteriore proviamo a modificare il nostro codice in modo che ridimensionando la nostra finestra cambino le dimensioni anche del nostro diagramma allora innanzitutto facciamo un'operazione di pulizia del nostro codice quello che normalmente si chiama refactoring 10 100 10 100 80 70 15 sono tutti numeri magici ok che quindi non vanno bene non vanno bene perché non sappiamo cosa significhino e soprattutto se ne cambia uno probabilmente devo cambiare neanche un altro e questo legame ovviamente non c'è per cui andiamo a modificarli andando a dare un significato quindi questo qua facciamo un refactor e diciamo che possiamo metterlo come variabile o come costante e questo è margine sinistra questo refactor extract constant e intervallo questo qui è il margine superiore ok questa infatti non mettere come variabile locale perché poi ci serve di più è la scala e questo qui è refactor costante e questo qui è lo spessore della nostra barra qui abbiamo in realtà margine sinistra più 5 che in realtà potremmo chiamarlo padding etichetta meglio usiamo il termine italiano spaziature etichetta che in realtà abbiamo detto i 5 e qui il 70 è spessore meno in realtà la spaziatura dovrebbe essere doppia fettura verticale creiamo la costante e andiamo a mettere 20 e poi scusate qui c'è ancora il margine superiore a questo punto avendo messo dei nomi un po' più significativi quello che possiamo fare è andare a prendere delle dimensioni quindi andiamo a prendere rectangle le dimensioni uguale a g punto get bounce quindi andiamo a prendere i limiti del nostro rettangolo che corrisponde all'elemento è un java vt quello che dobbiamo importare a questo punto noi sappiamo che la larghezza massima è quella che noi abbiamo e di conseguenza il fattore di scala che noi possiamo applicare è un fattore che faccia in modo che la barra più lunga arrivi a una certa distanza dal margine destro quindi sostanzialmente la scala non è più 100 come abbiamo messo qua va bensì la scala è uguale a il massimo tra i nostri valori quindi vado a calcolare il valore massimo for for int v in valori max è uguale a v maggiore di max v o max quindi vado a scaldire tutti i miei valori e scopro qual è il massimo quindi la scala sostanzialmente è uguale a la dimensione punto width a cui sottraiamo il margine sinistro più un'eventuale margine destra oppure immaginiamo di moltiplicarlo per 2 e questa dimensione la dividiamo per il massimo in questo modo la barra più lunga partendo da un certo margine sinistro arriverà alla stessa distanza del margine dall'estremo destro della nostra finestra e quindi in questo modo abbiamo ridefinito la scala allora ragionevolmente sì se volessi essere preciso dovrebbe essere un float in realtà tutti i valori che utilizzo nel in questi metodi devono essere degli interi quindi essendo comunque il valore max ragionevolmente più piccolo della mia dimensione potrei andare a fare quest'operazione oppure se voglio essere più tranquillo più che un float uso un double qui ovviamente se faccio quest'operazione moltiplico per la scala devo poi andare a fare un int ok devo fare un cast perché altrimenti il metodo non mi accetta un valore double e la stessa cosa devo andare a fare qui no in realtà qui non mi interessa la scala perché vado semplicemente a fare no qui non devo modificare per la scala perché la versione y non è intervallo allora così abbiamo adattato la lunghezza ok verifichiamo che tutto funzioni correttamente questa è la nostra vedete che la barra arriva giusto a una certa distanza per cui se io vado a modificare mi si allungano o si accorciano le barre benissimo quello che non abbiamo ovviamente è un ridimensionamento della larghezza e della posizione delle barre per cui andiamo ad aggiungere quello che è legato sostanzialmente a questo intervallo e alla e allo spessore ok quindi a questo punto abbiamo definito la scala l'intervallo è ogni quanto andiamo a mettere la nostra barra ok sostanzialmente int intervallo è uguale a dim.height meno margine superiore per 2 questa è l'altezza complessiva che io posso utilizzare e questo lo vado a dividere per il numero di barre che io devo andare a mettere che è sostanzialmente valori punto lente ok in questo caso il valore float è poco utile perché tanto quello è un intervallo fisso quindi non posso utilizzarlo per carità se ho tante barre e utilizzo un float posso recuperare frazioni di pixel in realtà non non mi cambia molto un altro elemento che devo andare a fare è quello che abbiamo chiamato lo spessore lo spessore sarà una certa percentuale di quello che è l'intervallo prima avevamo messo spessore uguale a 20 e l'intervallo vedete l'abbiamo messo qua lo spessore avevamo messo 80 e l'intervallo 100 quindi lo spessore è uguale a 0.8 per intervallo ovviamente il risultato è un valore floating point per cui alla fine devo fare un cast piccola pulizia visto che intervallo e spessore prima erano delle costanti sono state scritte con lettere tutte maiuscole in generale quando ho delle variabili è bene andare a mettere nomi minuscoli quindi questo lo chiamo intervallo e questo lo chiamo spessore come ho fatto a scrivere tutto contemporaneamente sostanzialmente ho usato la combinazione di tasti che su mac e ctrl option r che sta per rename in realtà lo potete fare su qualunque variabile se voi andate a selezionare una variabile clic destro refactor rename qui di fianco c'è scritto la combinazione di tasti se non avete mac avete un altro a questo punto se fate rename vedete che compare un rettangolino attorno alla variabile ci potete scrivere sopra e premendo invio automaticamente aggiornate sia quella variabile che tutti gli usi della variabile interno del metodo per cui invece di scala lo chiamiamo fattore di scala vedete che resta il rettangolo invio e automaticamente aggiorno tutte le istanze a questo punto possiamo verificare se tutto funziona correttamente andando a vedere la nostra finestra che è questa a questo punto vedete che aumentando o riducendo le barre vengono ridimensionate vedete vedete che in realtà in questo calcolo quello che qui abbiamo chiamato spaziatura etichetta no ma bensì quello che è la spaziatura verticale è fissa e in realtà dovrebbe essere proporzionata allo spessore della barra quindi in realtà questa spaziatura verticale dovrebbe essere una percentuale dello spessore ok quindi potremmo fare spessore per diciamo 75% e ovviamente devo fare un cast a int di questa cosa e togliere questa spaziatura verticale in questo caso vedete che le etichette restano più centrate dentro le nostre barre ovviamente se vogliamo mettere le etichette non all'interno della barra ma alla loro sinistra dobbiamo immaginare di spostare la partenza delle barre quindi aggiungere un certo margine e mettere le etichette di qua attenzione che per le etichette scritte con il metodo drawstring non è possibile fare l'allineamento a destra o a sinistra perché diamo semplicemente il punto di partenza della stringa e andiamo a scrivere da sinistra verso destra quindi bisognerebbe andare a calcolare quanto spazio occupa la stringa ci sono dei metodi apposta e quindi andare a calcolare la posizione in cui andarlo a scrivere perché ovviamente la scritta secondo è più lunga della scritta terza e quindi deve iniziare più spostata a sinistra rispetto della parola terza breve riepilogo su quello che abbiamo fatto a questo punto questa è fatemela ridurre un pochettino ancora allora ci sono una serie di costanti che abbiamo detto che in realtà non sono tanto costanti ma bensì variano in funzione della dimensione della nostra del nostro componente allora vedete che abbiamo definito la nostra classe che estende jcomponent che è la classe di base di tutti i componenti quindi è semplicemente un qualcosa che viene piazzato in una certa posizione allora domanda c'è un modo per fissare la dimensione minima della finestra bisogna intercettare gli eventi di ridimensionamento e andare a impostare la dimensione la dimensione minima quindi sì è possibile non è banale nel senso che non c'è set minimum size ma bisogna andare a intercettare il ridimensionamento e fare in modo che la dimensione non possa mai scendere sotto un certo livello se è possibile mettere una dimensione fissa per i componenti in quel caso però quando io vado a ridurre la finestra sostanzialmente ne taglio via un pezzo che però diciamo che non è un grande effetto grafico però è possibile farlo abbiamo detto all'interno del nostro componente a parte alcune costanti abbiamo questi due attributi che sono i valori che vogliamo andare a mostrare e le etichette che vogliamo andare a rappresentare sostanzialmente in termini di diagramma barre per cui la lunghezza della barra codifica in maniera grafica quello che è il valore che voglio rappresentare tutte le volte che abbiamo un diagramma sostanzialmente abbiamo un qualche meccanismo che ci codifica un valore numerico in una qualche dimensione fisica dimensione fisica che normalmente è la lunghezza l'ampiezza di un angolo la dimensione di un l'area di un qualcosa la posizione eventualmente rispetto a un asse però normalmente c'è un'operazione di codifica la codifica sostanzialmente è quella che noi andiamo a fare qui sostanzialmente andiamo a prendere il valore lo moltiplichiamo per un fattore di scala e lo utilizziamo per andare a dire qual è la larghezza della nostra bar come facciamo a disegnare il nostro grafico lo facciamo andando a fare l'override del metodo paint ovvero andiamo a dire come vogliamo ridisegnare la nostra finestra utilizziamo questo in realtà no clip ma in realtà get bounce la dimensione della nostra finestra la dimensione che noi andiamo a ridisegnare andiamo a vedere questa è la dimensione area da disegnare valore massimo da rappresentare ok il fattore di scala dipende da valore massimo e dimensione dell'area disponibile lo spessore delle barre dipende da numero delle barre e dimensione disponibile il numero il numero del numero delle barre è questo la dimensione disponibile è questa invece qui la dimensione disponibile è questa e il valore massimo è questo ok lo spessore dipende dall'intervallo e a questo punto si disegnano tutte le barre ok questo è il colore della barra poi abbiamo la barra indicata come te lo vado a capo i primi due valori sono la posizione vedete che la posizione è un margine fisso in termini di posizione orizzontale e i per un certo intervallo più un certo margine superiore e queste sono invece le dimensioni dove la larghezza della barra ovvero la lunghezza orizzontale dipende dal valore che voglio andare a rappresentare invece lo spessore è un valore fisso che abbiamo calcolato prima che è uguale per tutte le barre questo è il colore dell'etichetta e poi sotto abbiamo l'etichetta da stampare questa è la fatemelo scrivere su tre righe così forse è più chiaro quindi abbiamo l'etichetta questa è la posizione e qui abbiamo questa è la posizione x e questa è la posizione y verticale questo oggetto ovviamente è riutilizzabile per cui io posso creare tranquillamente una nuova barra un nuovo oggetto di questo tipo e andarlo a piazzare all'interno della mia finestra in un'altra posizione utilizzando layout manager posso eventualmente anche aggiungere nuovi valori quindi aggiungo nuove barre il ridimensionamento verrà fatto in base alle nuove barre quindi è ovvio che se io qui vado a mettere altri valori il risultato ovviamente sarà aggiornato correttamente e quindi sempre con ridimensionamento sia in orizzontale che in verticale delle nostre barre ok questo è un esempio tutto sommato semplice in cui io vado a ridefinire un componente e ridefinisco il suo metodo paint e quindi ho creato un nuovo tipo di componente che nel nostro caso abbiamo chiamato diagramma e che permette di andare a disegnare un diagramma barre ovviamente possiamo fare componenti di qualunque tipo basta ridefinire il metodo paint e andare a utilizzare i dati e disegnare quello che vogliamo allora domanda se uno volesse fare un caricamento dovrebbe avanzare la posizione di x ogni tot di tempo utilizzando un metodo slip un caricamento nel senso di aggiungere nuove barre man mano o fare una una operazione una specie di transizione iniziale non ho capito esattamente la domanda una barra progressiva si dovrei a questo punto immaginando di voler avere immagino poi si può declinare facilmente in altri modi in modo da avere le barre che si espandono ad esempio quando lo disegno che si espandono inizialmente quello che posso fare è iniziare con un fattore di scala che inizialmente è ridotto e poi man mano lo espando ovviamente devo avere un thread che in maniera temporizzata mi fa crescere questo valore questo è fattibile sicuramente oppure posso mostrare le barre una per volta quindi avendo il limite di valori puntolenze che inizialmente è ovviamente zero e poi sale fino a tutto aggiungendone che so una ogni secondo di nuovo posso utilizzare un thread ho usato il thread ma potremmo usare anche un esecutore tranquillamente che aspetta un certo periodo di tempo e ogni periodo di tempo va ad aggiungere qualcosa in questo caso non abbiamo eventi o meglio gli eventi sono nascosti nel senso che l'evento è necessario ridisegnare la finestra scatena la chiamata al metodo paint vi faccio notare e adesso vi apro scusatemi una finestra con un diagramma UML un attimo che sta arrivando eccoci qua allora vi creo un diagramma delle classi eccoci qua ok scusate ma era un poco reattivo allora nel caso degli eventi come funziona funziona in questo modo allora io il mio j qualcosa ok un componente una frame qualunque cosa gestito da swing ho un qualcos'altro listener e sostanzialmente il mio j qualcosa avrà ok un notifica un certo numero di listener e ne avrà zero o più ok potrebbe esserci nessuno potrebbero esserci tanti potrebbero esserci tanti tipi di listener perché ci sono gli action eccetera io che cosa faccio normalmente vado a utilizzare una sottoclasse se utilizzo un gframe oppure utilizzo direttamente l'oggetto immaginiamo che questo qualcosa sia un button e vado a definire un listener concreto che in pratica implementa questo listener questa ovviamente è una interfaccia ok e qui avrò il metodo qualcos'altro perform quindi io il mio pulsante vado a creare un oggetto di questo tipo lo registro in modo che poi qualunque evento accada a questo oggetto io lo possa poi andare a tradurre in una chiamata a questo metodo specifico quello che vediamo qua è sostanzialmente quello che avevamo chiamato il pattern observer observable posso avere un observable concreto direttamente qua questo qua è l'observer l'interfaccia e questo qua è l'osservatore concreto questo è quello che avviene per la gestione degli eventi che abbiamo visto in swing per la gestione del ridisegno all'interno delle classi quindi ridefinendo il metodo paint quello che abbiamo è sostanzialmente un j qualcosa lo scrivo in modo diverso così almeno è diverso la classe e poi ho il mio componente che estende e ridefinisce il metodo paint in modo che si comporti come voglio io ovviamente tutto il resto di questo qualcosa la possibilità di essere inserito all'interno di un layout il fatto che gestisca il paint il repaint che ci sia un oggetto graphics associato quando viene chiamato il paint eccetera 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 è già pronto qua l'unica cosa che cambia è il comportamento quando io vado a fare il ridisegno ecco quello che vediamo qua è sostanzialmente un esempio di template method altro pattern che avevamo visto quando abbiamo parlato di ereditarietà quindi vedete che i pattern bene o male rientrano sempre in un modo o nell'altro le strutture che vengono utilizzate e riutilizzate si rifanno sempre agli stessi pattern ok con qualche variante però in pratica il principio base del pattern è esattamente quello ok allora tornando al nostro codice vi lascio come esercizio da fare a casa la possibilità di andare a allora ve lo scrivo qua su così poi ce l'avete allora da fare aggiornamento dei dati da mostrare occorre chiamare repaint per aggiornare ok perché il sistema operativo non lo sa che noi abbiamo cambiato i dati quindi siamo noi che dobbiamo dirgli dopo aver cambiato i dati che stanno alla base del nostro diagramma barre guarda che quello che c'è lì non è più valido bisogna ridisegnarlo lettura dei dati da un file di testo immaginate che ci sia una coppia etichetta valore per ogni riga e tirate fuori i dati e andate a visualizzarli aggiungere un titolo al grafico aggiungere un asse ovviamente orizzontale perché quello verticale non è molto utile tanto ci sono le barre al grafico e aggiungere una griglia di riferimento ok allora direi che con questo per oggi abbiamo visto l'ultima parte relativa alle interfacce grafiche non aggiungerei altro a meno che voi abbiate domande specifiche la prossima lezione che poi sarà anche l'ultima di mercoledì la dedicherei a vedere assieme un tema d'esame così facciamo un po' di esercizio tutti assieme anche un riepilogo di quelli che sono gli elementi più più importanti vi pubblicherò dopo mercoledì un piccolo questionario su slack per avere un po' di feedback su alcuni elementi specifici di questo corso vi invito ovviamente poi a compilare il questionario del comitato paritetico della didattica che però essendo diretto a qualunque insegnamento non può essere molto specifico quindi se riuscirete a dedicare un po' di tempo anche a rispondere a quelle tre o quattro domande che vi metto su slack mi date un po' di feedback che sostanzialmente mi serve anche per andare a migliorare un po' eventualmente in futuro spero in futuro non ci sarà la necessità di fare didattica a distanza come quest'anno però in realtà il feedback può essere utile per migliorare il corso in ogni caso gli argomenti del corso sono finiti sì questo era l'ultimo vi pubblico ancora una piccola lezione su come vengono gestiti tempo e date però non fanno parte dell'esame comunque in realtà è una cosa abbastanza limitata e poi ci sarà ancora una piccola lezione su quello che controllo delle versioni che però è una parte teorica per quanto riguarda java con questo è direi finito non è ancora finito il corso ci vediamo ancora mercoledì e quindi c'è ancora tempo di fare un po' di attività pratica su quello che e poi la parte java ok la parte teorica ripeto è poca non dovete preoccuparvi più di tanto le domande saranno abbastanza generali quindi ovviamente dovete studiare dare un'occhiata alle slide e vedere le lezioni però è decisamente molto più semplice rispetto alla parte di programmazione allora ultime cose vedendo o in realtà non vedendo molti commenti su Slack sul canale degli esami allora c'era un suggerimento che partiva dalla considerazione che l'avvio della macchina virtuale è lunghissimo lo so infatti la nostra idea è di darvi decisamente più tempo rispetto a quello che veniva dato in laboratorio proprio per compensare questo tempo quindi noi pensiamo di darvi almeno un 20 minuti extra quindi almeno due ore e venti circa considerando 20 minuti di tempo per collegarvi fare tutto il setup del browser iniziare a rispondere poi aspettare che la macchina virtuale parta diciamo che 20 minuti minimo sono quello che pensavamo comunque di darvi come tempo poi ovviamente faremo qualche altre prove eventualmente allunghiamo non preoccupatevi se il tempo vi sembra poco perché in ogni caso noi nella valutazione teniamo conto di come è andato il compito in generale per tutti quindi se qualcuno di voi ha problemi specifici quindi si discollega non riesce a ricollegarsi ovviamente ditelo perché ne teniamo conto ed eventualmente prevediamo una sessione di recupero però se in generale il compito è lungo vi porta via del tempo non riuscite a finirlo non preoccupatevi più di tanto perché se il compito è difficile per tutti ovviamente ne terremo conto nella valutazione se ci sono problemi specifici nelle simulazioni che potrete fare fino al giorno prima dell'esame fatecelo sapere perché magari ci sono problemi tecnici risolvibili quindi cerchiamo di fare qualche cos'altro per il resto so benissimo che le condizioni per l'esame non sono ideali mi piacerebbe fare qualcosa di diverso però le direttive che noi abbiamo da rettore senato accademico sono abbastanza ben definite quindi io non mi posso inventare un nuovo meccanismo d'esame anche perché il tempo è ridotto e quindi io devo adattarmi a quelle che sono le modalità d'esame che mi vengono definite a questo punto se non ci sono altre domande allora domanda c'è un blocco del browser allora se avete un blocco completo quindi dovete riavviare perdete tempo ovviamente fatecelo sapere perché poi non ne terremo conto quindi se c'è un disastro completo non riuscite a fare il compito cercheremo poi di farvelo recuperare se c'è qualche piccolo problema e questo vi comporta una perdita di tempo di nuovo fatecelo sapere perché ne terremo conto in fase di valutazione perché se avete perso dieci minuti nel riavviare tutto e quei dieci minuti non li potete dedicare per la soluzione del compito quindi domanda i file lettura e scrittura sono frequenti all'esame non sono particolarmente frequenti e in generale c'è esclusivamente la lettura non vi facciamo la scrittura perché tutto sommato la scrittura è relativamente facile quindi c'è al massimo la lettura di dati da file o da uno stream come nell'ultimo caso domanda allora su quello di prima c'è stato il test allora il punto è che per quanto riguarda il test di prova voi avete un certo intervallo di tempo dal momento in cui iniziate finché fate la consegna quindi potete iniziare quando volete e potete ovviamente consegnare due ore dopo non ricordo esattamente qual è il tempo per l'esame c'è un intervallo fisso quindi si inizia un'ora e si finisce una certa ora quindi se voi avete dei problemi quindi non riuscite ad iniziare l'esame subito perdete tempo e quindi alla fine voi dovete consegnare entro una certa ora non tot ore dopo l'inizio quindi fatelo presente perché è un qualcosa che va a vostro discapito quindi per gli esercizi non cambia nel senso che il tempo inizia nel momento in cui riuscite a collegarvi per l'esame invece c'è una fascia oraria ben definita e quindi dovete fare tutto in quell'intervallo domanda sulle espressioni regolari i modi di andare a specificare le lettere o le cifre allora sostanzialmente lo stesso tenete conto che normalmente in sede l'esame non è strettamente necessario utilizzare delle espressioni regolari nel senso che se c'è il caso di utilizzare espressioni regolari potete risolvere lo stesso problema probabilmente in maniera anche più semplice quindi le espressioni regolari che utilizzerete saranno molto molto semplici e come le scrivete non è oggetto d'esame quindi potete utilizzare una variante piuttosto che l'altra senza problemi verranno pubblicati i test degli ultimi due live sì allora venerdì ci sarà la soluzione del live quello di venerdì mattina e vi pubblico i test di quello che c'è come esercizio e non vi farei le soluzioni perché per chi non ha ancora fatto la simulazione sarebbe poco poco utile però vi pubblico i test in modo che voi possiate poi utilizzarli per fare le vostre correzioni non so se ci sono altre domande ok in ogni caso ci sarà tempo per domande o altre interazioni nel caso fino al giorno precedente all'esame ricordatevi di prenotarvi per l'esame perché se non vi prenotate non potete sicuramente sostenerlo e se per caso per qualche motivo non potete sostenere l'esame cercate di cancellarvi in modo che noi abbiamo un numero corretto di prenotazioni questo ci permette di andare a fare un calendario corretto ripeto visto quello che ho detto l'altra volta scorsa visti i numeri i tre corsi in italiano più il corso in inglese fanno un esame unico e siete sicuramente più di 400 che è il numero massimo di macchine virtuali che al momento ci hanno detto che possono essere gestite quindi faremo due turni il primo dovrebbe essere alle 2 il secondo alle 5 comunque riceverete comunicazioni dettagliate sull'orario e su quale turno vi è stato assegnato a questo punto se non ci sono altre domande allora domanda allora ci saranno le slide saranno messe su un link sul sito op polito.it ci sarà copia delle slide e all'interno dell'esame ci sarà il link per poter accedere a queste slide quindi non solo le mie perché comunque tutti i corsi verranno fatti cioè l'esame di tutti i corsi verranno fatti contemporaneamente quindi ci saranno le slide utilizzate anche negli altri corsi per cui quelle saranno accessibili con questa modalità non ci sarà la domanda per il giorno prima perché in realtà non riusciamo a cioè non è molto significativa il il problema della domanda fatta il giorno prima era che i live avevano un numero di posti ancora più ridotto rispetto alle macchine virtuali e quindi per noi ma anche per voi fare due turni o fare tre turni in funzione di chi c'era effettivamente era importante in questo caso direi che non è non è così fondamentale quindi con la modalità online non ci sarà la domanda a cui rispondere il giorno prima ok se ci sono poi altre domande ovviamente potete utilizzare il il canale esami per fare cioè non solo segnalazioni di cosa non funziona ma anche fare domande sulle modalità di svolgimento o altre cose se avete altri dubbi a questo punto chiuderei